Desidero ringraziare i relatori ed il pubblico che è particolarmente qualificato, che è presente in sala per la partecipazione all'iniziativa di oggi, con la quale si intende tracciare un bilancio dei lavori del Comitato per la Legislazione del Senato nei primi sei mesi di attività. Il Comitato per la Legislazione al Senato e alla sua prima istituzione, nel regolamento dell'anno scorso, io mi pregio di essere il primo presidente. Abbiamo fatto un lavoro corale con tutti i componenti del Comitato, con l'ufficio, abbiamo organizzato un metodo di lavoro, perché a differenza del Comitato per la Legislazione della Camera noi facciamo anche una valutazione sull'impatto delle norme che andiamo ad esaminare. È un lavoro esaltante, delicato, abbiamo risultati positivi perché noi trasformiamo le considerazioni, i rilievi in emendamenti che sono stati quasi per la totalità accolti dalla Commissione di Merito o dall'Assemblea, dall'Avola fino a questo momento. Ci prefiggiamo di essere di ausilio ad un percorso normativo più facilitato, più semplice, più chiaro, che poi è il compito di questo Comitato. Questo organismo non è un organismo pleonastico, ma un organismo che ha un suo ritmo, che se lo conquista ovviamente col valore delle obiezioni, che non debbono essere divisive, perché questo non è né uno strumento nelle mani dell'opposizione per mettere in discussione le scelte del Governo, né uno strumento nelle mani della maggioranza per blindare i testi governativi. Abbiamo una guida salda, una guida che proseguirà per tutta la legislatura e a cui auguro ogni fortuna con tutta la collaborazione che noi vorremmo e potremo dare sul nostro versante. Sono convinto che il Comitato possa dare una mano se riuscirà a fare in modo che il tema dell'abuso della decretazione d'urgenza sia un tema che non viene ricondotto alla dinamica maggioranza-opposizione, ma viene ricondotto alla dinamica governo-parlamento. Questi primi sei mesi, Presidente, di lavoro mi inducono a non cedere al pessimismo e quindi che si provi comunque a correggere quella che è oggettivamente una torsione contraria all'interesse generale, non soltanto alle prerogative dei deputati e dei senatori. Si sta radicando la percezione di una legislazione a carattere sempre più frammentario e microsettoriale. In questo quadro, credo che sia interesse del Parlamento intervenire con un'autoriforma prima di eventuali interventi esterni che potrebbero ingenerare conflitti e tensioni. Il funzionamento delle istituzioni è una cosa che deve essere tenuta in grande pregio. Non vanno svilite perché poi tornare sui nostri passi è molto difficile. C'è ancora tanto lavoro da fare. Noi per quello che è possibile abbiamo fatto e faremo la nostra parte come Comitato per la Legislazione sia del Senato che della Camera dei Deputati. Vi ringrazio per la presenza e ci rivedremo sicuramente a dibattere di queste tematiche. Grazie.